ha nevicato pochissimo ma ha ghiacciato ora provo a tirare fuori la mini vediamo se di là passa e poi poi e poi niente ghiacciato ghiacciato conviene aspettare questo si sta messo riscaldamento e cosa dovevo dire non me lo ricordo più con un gratta e vinci come si chiamano un gratta graffi un pulisci graffi ho pulito tutta quella parte no quella pasta per togliere i graffi ho pulito vedi si vede ancora un po li ho tolto tutto quella ruggine che c'era è andata via subito meno male ok 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 signore e signori buongiorno a tutti voleremo un altitudine di 6.000 piedi la nostra vettura è pronta per il volo fantastica giornata quanto calienta il sol qui nella playa la tua classici ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dare una copertura al tettuccio. Mi sono dimenticato. È scesa la temperatura. Questa notte era a meno 17. Fino a questa mattina. E ho dimenticato di mettere il sunscreen. Capito? Quindi adesso questi si sono congelati. Si sono incollati qua. Conviene aspettare. Ciao Ginobre e Robert. Come? Ok? Ok? Guardate. Questo è tutto ghiaccio, guardate Il legno è troppo Il legno è troppo Comprato su Amazon Ha funzionato per un po' Poi ha smesso Aspettiamo che si scalda un po' E dopo di che gli metto questo qua Ma che freddo fa Comunque ecco vedi Così non si è ghiacciato Hai capito? Guarda Guarda Un freddo artico Tutto bloccato Però almeno non ha attaccato Se no si rompe la gommina Hai capito? Vedi? Questa la copre La ripara e non si ghiaccia il vetro Cioè non si ghiacciano questi qua di sopra Hai capito? Guarda 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 That's it Beautiful Mamma mia Andiamo a vedere il lago? Sì ma non scendo fino a giù Non ce ho voglia No Io ti sento Il picchio ahia qui di noi è una giungla guarda è freddo solo a guardare mai che c'è qualche giaguaro sopra la pianta magari sai mai è freddo solo a guardare